Eccoci qui amici e amiche che ci seguite, buon mercoledì a tutti, questa è Canale 2C, la nostra rubrica di approfondimento quotidiano. Ogni giorno un tema, ogni giorno un argomento e lo facciamo con ospiti in studio. Oggi parleremo di scuola, di nuove professioni, di quanto è importante oggi capire in che direzione andare, dove orientarsi e di quali strumenti dotarsi per raggiungere determinati obiettivi. E lo facciamo con il dirigente dell'ITT Nervi Galilei di Altamura, Antonio Petronella, grazie. Buongiorno, buongiorno, buona giornata. E un docente, Angelo Michele Didonna, docente presso l'ITT Nervi Galilei. Buongiorno, buongiorno. Allora oggi, come si dice, posate il telecomando, non cambiate canale perché parleremo di un tema di grande attualità. L'uso di strumenti elettronici, l'uso dei computer, essere dei bravi videomaker, capire come approcciarsi a quelli che sono gli strumenti di lavoro, dell'editing video. Sono tutte materie che hanno già prodotto in un anno scolastico, tecnicamente si dice, il licenziamento di alcuni studenti. E poi, insomma, al punto tale che voi avete deciso di continuare presso il vostro istituto. Quindi parleremo di questa cosa molto interessante, di questa nicchia formativa che prepara i giovani verso quello che è oramai il linguaggio comune di tutti noi. Cominciamo per dovere, insomma, dal dirigente. Io vorrei cominciare con la presentazione della scuola. Il nostro è un istituto tecnologico, ha una popolazione scolastica di circa 1100 studenti, 170 docenti, 30 tra personale collaboratore, amministrativo, assistente tecnico e DSGA della scuola. Poi ha sette indirizzi di studio, la chimica, l'informatica, il settore delle costruzioni, la moda, l'agroalimentare. È una bella nave da crociera la vostra scuola. E poi la grafica e la comunicazione. È una scuola che opera in alternanza scuola-lavoro con circa 143 aziende. Nel corso degli anni sono diventate anche di più queste aziende. E ha 21 laboratori. Noi facciamo i salti mortali per portare avanti i laboratori. Una sera didattica, terreno incomodato d'uso per l'agroalimentare. E quindi, ecco, in una grande scuola si può trovare spazio e si trovano anche le risorse giuste per poter preparare al meglio gli studenti, i ragazzi. C'è una grande collaborazione tra i docenti. Considerate che noi abbiamo 13 dipartimenti disciplinari. Un collegio di docenti formato, come ho detto prima, da 170 docenti, che si suddivide poi in articolazioni collegiali e tutti operano per raggiungere gli stessi obiettivi. Ogni dipartimento collabora dal dipartimento della letteratura italiana e storia a quello della matematica e poi ai dipartimenti delle discipline più caratterizzanti che dal terzo anno caratterizzano appunto le attività della scuola. Quindi la vostra è una scuola che mantiene le radici verso quello che è comunque il pilastro della formazione scolastica, che però si apre a nuovi orizzonti. A nuovi orizzonti si apre al territorio perché noi serviamo più territorio, non soltanto l'ambito 4 che è formato da Altamura, Gravina e Poggiorsini. Noi serviamo anche Toritto, Grumo, Cassano, Spinazzola, Gravina, quindi serviamo anche altre città. Siamo in collaborazione con gli altri enti comunali, oltre che con l'ente comune di Altamura e l'apertura al territorio è grazie alla professionalità dei docenti perché aprirsi al territorio significa anche organizzare convegni ma poi non lasciarli lì, continuare in questa opera così come da qualche anno la scuola sta facendo. E questo lo ripeto è grazie alla collaborazione di tutti, del personale, anche delle famiglie, degli studenti perché poi sono studenti in gamba. Beh certo, noi siamo stati diverse volte nel vostro istituto, abbiamo seguito un po' le tante attività anche pomeridiane che svolgono, come si dice, entrate in profondità negli argomenti con dei corsi di studio avanzati che richiedono anche, come si dice, di frequentare pomeriggio, insomma non è che si possa fare tutto la mattina perché poi la mattina ci sono le diverse ore di lezione. E il curriculum la mattina. Parliamo con il professor Di Donna che ci spiegherà un po' questo corso particolarissimo che è già stato portato avanti, avete già consegnato dei diplomi per il primo anno e questo è stato il secondo anno. Io sono molto contento di poter parlare del corso di grafica e comunicazione dell'ITP, innanzitutto perché per quanto riguarda me, quando ho delle idee che riguardano ovviamente la materia in questi due anni mi sono sempre confrontato con il mio dirigente e lui mi ha detto che se la cosa era fattibile si sarebbe fatta tranquillamente. In questi due anni è stato davvero bello lavorare, anzi per la verità per me l'insegnamento non è un lavoro ma è una missione, io lo faccio sempre con passione e questo forse mi aiuta tanto in questa professione. Sì, l'anno scorso c'è stata la prima quinta che abbiamo licenziato, come si dice in gergo, e quest'anno un'altra quinta, e altri ragazzi che sono usciti da scuola consapevoli del fatto che il nostro diploma può essere speso anche il giorno dopo il diploma stesso, l'aver conseguito il diploma, nel senso che se qualche ragazzo non vuole andare all'università può anche trovare la sua strada sempre nel settore della grafica e comunicazione. Ma andando addentro alle cose, quest'anno è stato un anno molto proficuo da un punto di vista proprio lavorativo, non soltanto la cosa più importante è stata la creazione di un sito web, di un museo virtuale dedicato al 1799 che storicamente rappresenta un periodo molto importante e formativo di Altamura. E non ultimo un bellissimo progetto che ha visto coinvolti sempre i ragazzi di grafica e comunicazione che si chiama Production Anatomy, che è sempre in alternanza scuola-lavoro perché è importante permettere ai ragazzi di fare alternanza così come deve essere fatta sul campo, mettendo le mani all'interno di quello che è la loro materia. A meno noi ragioniamo così nella nostra scuola. Production Anatomy è stato un impegno molto molto bello, i ragazzi hanno visto come si crea uno studio cinematografico, anche uno studio televisivo, anche uno studio fotografico, hanno visto con i loro occhi che cos'è una Stilicam all'interno di uno studio televisivo, che cosa sono i monitor, come si manovrano, come si utilizzano tutti quegli strumenti che sono a disposizione di chi lavora all'interno di questo settore. Per quanto riguarda la Production Anatomy, la cosa più bella è stata che i ragazzi, in particolare di terza e quarta grafica, sempre di grafica e comunicazione ovviamente, hanno scritto la sceneggiatura, perché abbiamo realizzato un cortometraggio molto molto bello e nessuno ha messo mani, neanche io, soltanto loro hanno creato la sceneggiatura, hanno assegnato i ruoli, hanno girato le scene, hanno fotografato, ecco questo significa per un ragazzo che frequenta un corso del genere, sapere quello che fa, non a livello teorico, la teoria è importantissima, non nascondiamoci dietro un dito, però applicare la teoria in progetti di questo genere, io penso sia una cosa molto bella per loro. Adesso cominciano a dire, è anche incuriosito, questo prodotto finito poi avremo la possibilità di riguardarlo? Sicuramente, l'altra settimana l'ho fatto visionare al nostro dirigente e lui è rimasto molto molto contento, perché poi al fine in una scuola sono gli studenti che devono essere contenti, non i professori, non il dirigente, ma sono gli studenti, se sono contenti gli studenti e visto che siamo nell'epoca della comunicazione e della pubblicità, la buona pubblicità fa anche la scuola, io ragiono così. Beh no, ma bisogna anche capire un po' quelle che sono le nuove direttive del mercato del lavoro, insomma oggi la multimedialità, l'utilizzo di apparecchi audiovisivi e di strumenti per l'editing video, per esempio, è qualcosa con cui condividiamo quotidianamente, insomma anche l'uso di uno smartphone, oggi abbiamo degli smartphone evoluti che consentono anche di creare delle composizioni, quindi poi scopriamo che ci sono dei ragazzi che hanno una vena creativa che è giusto, come si dice, coltivare, far emergere, tirare su. Parliamo con il dirigente, questo è un settore che ha in termini di mercato del lavoro anche delle prospettive? Ha prospettive sia dal punto di vista universitario, ebbene questo è facile dedurlo, ci sono dei corsi anche regionali, i famosi corsi ITS, oppure si può partecipare a corsi organizzati da fondazioni, i fondi sono sempre regionali e abilitano i ragazzi, diventano quasi ispettori tecnici di quella determinata disciplina, nel nostro caso del design. Non a caso noi ci siamo attrezzati anche con un laboratorio FES, con 28 postazioni, un laboratorio specifico di design, abbiamo dovuto costruirlo. nel corso di questo anno, anche per coprire le 12 ore di laboratorio settimanale di tutte le classi, quindi avendo 47 classi, di cui 20 del biennio e 27 del triennio, nel triennio ci sono 12 ore di laboratorio, noi dobbiamo coprire anche l'orario, altrimenti andremo contro ogni normativa che garantisce al nostro istituto di insistere nel territorio. Questi sono corsi, sono diplomi che aprono al territorio subito, perché non è necessario conseguire l'esercizio della professione libera, ma di fare soltanto esperienza, e nello stesso tempo di inserirsi nei contesti aziendali. sono diverse le richieste che abbiamo da parte di aziende, anche di aziende importanti nel territorio, che lavorano all'estero, per esempio, o in Italia, proprio la settimana scorsa, un'azienda ha chiesto diversi ragazzi, ci lascia i numeri di telefono, dà la disponibilità, e io chiamo le famiglie, le condizioni sono queste, ci andate e parlate, quindi è un settore all'avanguardia, è un po' come sono gli altri settori, certo la crisi non può durare sempre, prima o poi si deve risolvere, noi siamo anche abbastanza abili in questo, e lo dobbiamo fare, per il bene dei ragazzi, ma per il futuro della società. Noi insistiamo anche su questioni di carattere politico-sociale, non facciamo politica, siamo la scuola, e stiamo lavorando a un progetto nazionale che vede la costruzione di laboratori attivi nella terra delle sette gravine, quindi il canale di Suez ormai si è raddoppiato, il primo approdo per il turismo per noi a Taranto, immaginate che cosa significa partire da Massafra, per esempio, e raggiungere la nostra gravina e insistere in quel territorio, sette gravine, dando la possibilità a loro di entrare meglio, andare in profondità per quello che noi abbiamo, è un tesoro, speriamo di riuscirci. Torniamo un po' sull'aspetto formativo di questo progetto che si chiama Production Anatomy, e quindi lo studente, l'allievo, non so come vogliamo chiamarlo, lo studente, grazie a questo corso ha la possibilità di capire anche se orientarsi più nel mercato della pubblicità, orientarsi più nel mercato della comunicazione nuda e cruda, nel mercato della post-produzione video, nel mercato anche cinematografico, e quindi ci sono tante chance grazie a questi strumenti che vengono acquisiti. Allora, il corso di grafica e comunicazione si compone di tante cose, per quel che riguarda me, laboratori tecnici, tecnologie dei processi di produzione, organizzazione e gestione dei processi produttivi, tutto questo però deve ruotare all'interno di un'azienda grafica, un'azienda grafica in toto, poi all'interno di questo contenitore ci può essere il cinema e magari il ragazzo è più portato per il montaggio audio-video con software dedicati, poi un altro si può dedicare a fare il web designer, creazioni di siti web, poi uno può andare anche a livello pubblicitario, anche all'interno di biblioteche, creare copertine di libri, libri stessi, con anche lì dei software dedicati. Ecco, la bellezza di questo corso è la straordinaria varietà che c'è all'interno del corso stesso e quindi il ragazzo non è fossilizzato soltanto su una cosa, ma se ha delle peculiarità e tutti noi ce le abbiamo e la creatività, soprattutto quella, muove il ragazzo all'interno di questo corso, può davvero sviluppare un proprio percorso personale e andare dove evidentemente vuole. Allora, questo corso, deduco che alla base dei risultati ottenuti, continuerà. Sì, sicuramente. Abbiamo già i due corsi, la A e la Fondo. Ci sono due sezioni che stanno, quindi dall'anno prossimo ci saranno due quinte. Due quinte. Quindi è un successo, è un successo, perché non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Noi ci troviamo nell'era della comunicazione, nell'era del web, nell'era di internet. Certo, ci sono pregi e difetti. In tutte le cose. Come in tutte le cose. Però nel nostro settore, soprattutto scolastico e grafica e comunicazione, i ragazzi sanno dove mettere le mani, sanno come comportarsi. E non è da sottovalutare che nel nostro corso noi affrontiamo anche le normative. Cioè tutto quello che sta all'interno di un'azienda è importante conoscere le normative sulla sicurezza, come comportarsi negli ambienti di lavoro. Ecco, tutto questo forma il ragazzo a 360 gradi. E questo production anatomy è partita davvero da un'idea mia così. Dicevo a me stesso, perché non permettere ai ragazzi, è vero, devono studiare un tomo di 200 pagine, perché non permettere di applicare tutto quello che hanno studiato in teoria, applicandolo in maniera pratica. E quindi... La manualità è completa, la formazione. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché io dico sempre, la macchina fotografica, devo sapere la teoria, che cos'è il diaframma, l'otturatore, come si fa una foto, ma io devo vederla, toccarla e fare foto. Più esperienza ho apportata nel mio bagaglio personale, è meglio è. Ma come in tutti i settori, io poi, ripeto, l'insegnamento lo adoro, però facendo un'altra attività che è quella di attore doppiatore, quindi so cosa significa per loro stare all'interno di uno studio televisivo, di uno studio fotografico. Noi a scuola abbiamo un laboratorio fotografico, allestito proprio come un laboratorio professionale dove loro vanno, fanno foto, fanno servizi di tutti i generi, quest'anno sempre a proposito... Anche in autonomia operativa. Certo. Cioè gli studenti da soli fanno queste indicazioni dei docenti naturalmente. ma si organizzano. La particolarità è quella che loro sono autonomi e quella è la cosa importante perché poi alla fine dei cinque anni quando usciranno da scuola ed è lì che comincia la vera vita, loro sapranno cosa fare autonomamente, senza dover chiamare il docente o chi... Poco mi dire, insomma, io ti do la patente e adesso guida, poi sei nelle condizioni di scegliere la tua direzione. Adesso, mentre di donna stava parlando di questo, prima parlavamo anche delle sceneggiature, delle cose. Io ho avuto modo di testare un po' anche il lavoro delle vostre scuole, credo durante il periodo freddo-invernale con quella neve che avevamo sotto i piedi insomma, i giorni della Shoah e ricordo che qui in Via Laudati avevate fatto delle scene e personalmente devo riconoscere che alcune figure avevano anche una bravura evidente nella recitazione. Oltre ad aver fatto Via Laudati per 40-50 volte sotto il freddo, pungente, devo dire, perché faceva veramente freddo, il diricente lo sa perché era presente. Abbiamo organizzato tutto durante la notte, si può dire, i docenti erano pronti già alle 5 del mattino perché ce la facciamo, la facciamo, andiamo avanti e abbiamo lavorato tanto e i ragazzi hanno partecipato, tutti, tutti, hanno trasportato con noi il materiale senza mai tirarsi indietro, fa freddo, mai, mai una parola di troppo e noi siamo grati anche a livello di preparazione perché danno i docenti a come hanno saputo nel corso dei precedenti mesi organizzare questa attività perché non è soltanto la parte culturale è la parte anche della educazione generale del ragazzo e lì si vede poi l'abilità del docente, la professionalità. Questo vi fa onore? Io ringrazio anche a nome degli altri miei colleghi il dirigente, però ci mettiamo l'anima, ecco, personalmente ci metto l'entusiasmo, la passione, quello deve muovere tutto, se non c'è quello è difficile fare le cose nel migliore dei modi, sì, le si fanno però in maniera così un po' superficiale. Va bene, io vedo il cronometro e il timer mi dice che siamo giunti vicino alla conclusione, il tempo di salutare. Grazie, io ne approfitto per ringraziare Canale 2 e Felice Iglesi perché la nostra è una forma di rendicontazione sociale, noi vogliamo rendicontare quello che facciamo, il territorio deve sapere, la scuola è aperta, siamo a disposizione per ulteriori spiegazioni e ulteriori interventi nel territorio, possiamo creare convenzioni intese, siamo a disposizione. Professor Di Donna. Io sono contento soprattutto di essere stato la voce dei miei studenti oggi, loro non sono in vacanza al mare, in montagna ed è giusto che sia così, però è come se intorno a me ci fossero loro oggi e io sono contento davvero di poter prestare la mia voce e essere venuto qui a parlare anche per loro. Grazie. L'abbiamo capito dagli occhi che sta dicendo la verità, questo mi fa onore, vuol dire che si crea quella alchimia importante che unisce il gruppo. Come diceva prima il dirigente rispetto reciproco, i ruoli sono quelli e poi si va avanti tutti insieme. Benissimo, e allora amici telespettatori noi vi ringraziamo per averci seguito in questa mezz'ora insomma siamo riusciti un po' a raccontarvi quello che accade giù all'ITT Nervi Galilei di Altamura abbiamo avuto come ospite il dirigente Antonio Petronella che ringraziamo e il docente Angelo Michele Zidon grazie, arrivederci. E' tutto amici che ci avete seguito noi vi diamo tuttamente come sempre domani alla solita ora ci alterniamo domani ci sarà Arturo Castoro noi invece ci rivedremo venerdì alla prossima.